I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 12 tonnellate di tabacchi trovati in un auto articolato con targa bulgara, fermato nella zona del castello autostradale di Bonfornello, sull'autostrada Palermo-Messina, in direzione del capoluogo siciliano. E' stato arrestato il camionista Alexander Kolev-Hristov, 34 anni della Bulgaria. I controlli sono scattati la scorsa settimana da parte del nucleo di polizia economico-finanziare di Palermo. I militari col cane anticontrabbando Arca hanno scoperto quello che dicono essere uno dei più grossi carico illegale di sigarette scoperto in Sicilia negli ultimi anni. 45.000 stecche di sigarette di contrabbando con il marchio Merit. Il Corriere è accusato di contrabbando e introduzione nello stato di prodotti contraffatti. L'arresto è stato commalidato dal GIP che ha disposto la custodia in carcere.